venerdì sera la juventus ha perso per 2 a 1 contro il genoa bere per dimenticare la vostra prontissimi è prontissimi per juventus inter finale di coppa italia il post partita di questo video ovviamente quello a caldo solito non è uscito sul canale è uscito sull'app di numero 10 mi invito a scaricare l'app dal link in descrizione e guardarvi lì il post partita questo è semplicemente la live reaction che vi porto questa sera perché non poteva mancare la live reaction no e quindi niente scaricate numero 10 e gustatevi il mio sclero perché veramente ho sclerato male non lo so se sperare che sia stata venduta la partita oppure no perché almeno avrebbe senso invece va dai Juan fai qualcosa una magia stop ti dai paolo col sinistro di destro di bala addirittura di destro tipo abbiamo tirato in porta due volte due volte con di bala si è riuscito a trovare il gol meno male bello di destro è bello di destro avrei mai pensato potesse fare gol di destro partita bruttissima l'abbia sbloccata finalmente bravo 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 sarà l'ultimo oppure no di un bel gol in finale contro l'inter lo vorrei proprio uno dei pochi che chi davanti qualcosa fa come di bala in questa squadra non l'avrei venduto cioè se devo scegliere di male bernardeschi non ci penso neanche e sembra che che bernardeschi lo rinnoveranno e di bala no quindi con alla testa libera e anche il gol di vantaggio col genoa che attacca perché deve almeno pareggiare riusciamo a fare qualcosa ragazzi fino al 30 di giugno di bala è pagato dalla juventus è un giocatore della juventus è il giocatore non all time nella classe di camera catturale della juventus è stato disegnato come vice capitano da juventus e fino al 30 giugno questo non cambia questo rimane cioè è stipendiato è pagato la juventus per forza di cose deve puntare su di bala fino a prima stagione fine c'è stop non è che c'è tutto quello che è fino al 30 giugno rimane tale ai moise ma dai moise o su o dai ma cos'è no 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 non si possono concedere ste occasioni l'inter non è il genoa mercoledì è no arriva era più santo uno deve dormire a centrocampo non ho parole per giudicare moise che non ce le ho cercando di contenermi perché oggi sono venuti a benedirmi la casa allora ero qua che editavo il video della carriera sento suonare il campanello davanti alla mia porta c'era una suora che mi ha detto sono venuta a benedire la casa ho detto prego venga a benedire la casa no mamma mia alexandro isaac meglio stiamo salendo se perdiamo questa palla siamo costretti a fare fallo o zaccaria bravo paolo di bala bravo paolo di bala è un problema perché vuol dire che gli altri non è che siamo proprio così forti non perché ce l'abbiamo avuto da primavera anzi al contrario che le sbaglia tutte bravo rabbio non le sbaglia tutte proprio letteralmente tutte le sbaglia letteralmente tutte le sbaglia tutte me le smette tutte tutte le sbaglia tutte bisogna dare il pugno del capo al geno è perché sennò ce ne pentiamo ecco sta a vedere allora se facevamo gol con ken in pallonetto su tacco di rugani spegnevo buona ma non me la puoi sbagliare zaccaria a era ken sembrava zaccaria rigore bravo a che nel caso non mi sembrava però ma sì è vero prima palla è vero prima palla è vero è vero è vero è vero non è rigore bella l'ultima inquadratura che ci è fallo da rigore che poi non è rigore a fare gol un minuto dopo abbiamo rimesso in vita il genoa abbiamo rimesso in vita il genoa perché lì non c'è nessuno il centrocampo dove il centrocampo perché questo ha dato questa palla filtrante noi prendiamo gol sempre da chiunque dall'ultima in serie a dalla penultima in serie a dalla terz'ultima in serie a sempre gol noi lo prendiamo prenderlo sempre noi un gol sempre noi veramente siamo vergognosi noi non chiediamo una partita neanche per ma guarda cosa fanno oh chesni grazie di esistere chesni grazie di esser materializzato su questa terra cos'è sta roba si è fatto male perché si è fatto tunnel ken si è fatto tunnel da solo e si è fatto male Non ti bloccare adesso Ma che Un problema inaspettato in che senso Dazon ma cosa dici Cos'è successo Come ha smagliato a porta e vuota Chi Ma non calcio di rigore Ma cosa cazzo vuol dire Siamo riusciti a perderla 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 Abbiamo salvato il Genoa Siamo riusciti a salvare il Genoa Abbiamo salvato il Genoa 96 esame Bene Mi fate vedere che cosa cazzo Ho sbagliato Ken Ok Morata spallata Roba nostra Ma no Ma no Ma no Ah poi hanno avuto Un'occasione sul contropiede E poi manca un minuto E sono riusciti a riperderla A fare rigore Perché si è bloccato tutto Perché si è bloccato Si è bloccato tutto Si è bloccato tutto Tutto si è rotto Tutto si è rotto Oh Dov'è la webcam Ce siamo riusciti Ridere per non piangere Ridere per non piangere Ragazzi Mercoledì a Roma Del cuore E dell'ignoranza Ci vuol veramente dell'ignoranza Andare a Roma Mercoledì Verra finale con l'Inter Oh Se non è amore e supporto questo Non lo so Che a te Qualcuno Ai bisogna A parten strutture E 확iltare Этот Quirk 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 Grazie a tutti